Mai rinunciare ai propri sogni. Andate con coraggio nella direzione dei vostri sogni. State in piedi e mostrate al mondo di che pasta siete fatti. Quando il mondo vi abbatte, trovate un motivo per rialzarvi. Non rinunciate mai al successo. Provate, provate, provate e riprovate. Alimentate la vostra mente con idee di successo, non di fallimento. Ricordate che l'unico modo per fallire è arrendersi. Ogni volta che fallite, fate un passo avanti verso il successo. Non avete paura, siete coraggiosi. Non siete deboli, siete potenti. Non siete ordinari, siete straordinari. Non tiratevi indietro, non arrendetevi. Quando guarderete indietro alla vostra vita, non abbiate rimpianti. Credete in voi stessi, credete nel vostro futuro, troverete la vostra strada. Il fuoco che brucia dentro di voi è potente e aspetta di ardere. Siete destinati a fare grandi cose. Seguire i propri sogni può essere terrificante ed eccitante allo stesso tempo. Il coraggio è affrontare la paura. La paura di fallire frena la maggior parte delle persone. Voi non siete la maggior parte delle persone. Perseverate e convincete gli altri dei vostri progetti, perché sono reali. Nessuno può farlo tranne voi. Nessuno ostacolerà i nostri sogni. La maggior parte delle persone padroneggia l'ovvio, voi create qualcosa che prima non c'era. È audace, è bello e sei tu. Date il meglio di voi stessi e i vostri sogni prenderanno vita. Il successo è vostro. Andate verso i vostri sogni, è il vostro turno. Sì. 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 Sì.